Facendo un riferimento al particolare e difficile momento che stiamo vivendo, andiamo ora ad analizzare i numeri della pandemia da Covid-19, che, se non stiamo attenti, possono essere ingannevoli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 26 ottobre, in occasione della giornata nazionale della ricerca, ha detto La società della comunicazione immediata e globale ci mette a disposizione conoscenze fino a ieri inaccessibili, ma talvolta ciò può anche disorientare. Si può finire nel tunnel delle fazze notizie, delle dicerie, della perversa volontà di ingannare con la disinformazione. Ciò accade persino nel pieno di questa tragica pandemia. Ebbene sì, anche in un momento difficile come questo c'è chi, consapevolmente o no, fornisce informazioni fuorvianti. Ma vediamone alcune. È dall'inizio della pandemia che leggiamo e sentiamo ogni giorno notizie relative ai nuovi casi o ai casi totali di Covid-19. Peccato però che nessuno può veramente conoscere quanti hanno contratto il virus. I casi di cui i giornalisti parlano sono quelli rilevati sulla base dei tamponi effettuati. Ma non tutta la popolazione e nemmeno un campione rappresentativo di essa è sottoposta al tampone. Basterebbe quindi dire casi positivi rilevati per trasmettere i dati in maniera corretta. Guardate anche questo articolo di giornale che contiene il video di una mappa prodotta da un'università americana che mostra la distribuzione delle infezioni e dei decessi da coronavirus in tutto il mondo. I cerchi rossi indicano dove ci sono i casi rilevati. Gli Stati Uniti si distinguono per essere quasi interamente rossi, mentre il Canada mostra pochissimi punti rossi. La cosa interessante è che la mappa viene mostrata da giornalisti americani e italiani anche di testate accreditate con grande stupore, arrivando a chiedersi cosa sta facendo il Canada per essere così virtuoso. Ma non si è tenuto conto di una cosa semplice e ovvia. Sebbene abbiano quasi la stessa estensione, gli Stati Uniti hanno 328 milioni di abitanti, il Canada 37 milioni. Gli Stati Uniti quindi hanno una popolazione quasi 10 volte superiore e rappresentano senz'altro un polo di attrazione più forte. E' chiaro quindi che i contagi siano superiori. Ma vediamo cosa succede anche in Italia. Ogni giorno le regioni comunicano i positivi al coronavirus sulla base dei tamponi eseguiti e Protezione Civile e Ministero della Salute diffondono i numeri espressi in valore assoluto. Ma se questi numeri non sono rapportati ad esempio al numero di abitanti per quella regione o al numero di tamponi eseguiti in quella regione, cosa ci dicono effettivamente? Senz'altro non ci consentono di fare dei reali confronti tra le regioni. Guardate questa infografica trovata su internet. In questo caso si fa una graduatoria proprio sulla base dei valori assoluti dei tamponi positivi rilevati, dalla regione peggiore a quella con meno positivi rilevati. Se noi affianchiamo a questa graduatoria quella in cui il numero di positivi rilevati viene rapportato alla popolazione di ogni regione, si può facilmente osservare come la situazione cambia e nemmeno di poco. La Lombardia, che era al primo posto e individuata come la regione peggiore, in realtà si trova al sesto posto e la Valle d'Aosta, che risultava terz'ultima, si trova al primo posto. Questa è la mappa corretta. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica dei rapporti a cadenza settimanale, analizzando in maniera più approfondita i dati forniti dalle regioni. Come si può vedere dalla mappa dell'Italia pubblicata, hanno rappresentato l'incidenza dei positivi rilevati nella settimana dal 2 all'8 novembre per 100.000 abitanti, inserendo anche per ogni regione il cerchio relativo al numero assoluto di casi Covid diagnosticati. Ma continuiamo a ragionare sui numeri. Spesso accade che accanto al numero di positivi rilevati viene indicato il numero di tamponi effettuato, cioè la percentuale dei positivi sui tamponi. In questo caso l'informazione è completa? Possiamo fare dei reali confronti tra le regioni? Non del tutto. Questo perché non c'è una direttiva nazionale che uniforma la prassi. Ci sono infatti regioni che effettuano test solo sulle persone sintomatiche o persino solo su quelle gravi. In questo caso è chiaro che emergeranno più positivi. Altre regioni, invece, sottopongono a tampone una parte più consistente di potenziali contagiati, dando ad esempio la caccia agli asintomatici. È chiaro invece che in questo caso i casi positivi saranno più bassi. Facciamo un altro esempio. Un articolo di giornale esamina il caso del Lazio. Il Lazio, insieme al Piemonte, è l'unica regione che conteggia tanto i tamponi molecolari quanto i test rapidi. Ben il 40% rientra tra i rapidi. Le altre regioni, invece, conteggiano solo i tamponi molecolari. Quindi, aumentando il numero di test fatti rispetto al totale dei positivi riscontrati, il risultato è chiaro quello di abbassare il tasso di positività. Questo è solo un esempio che ci fa capire che effettivamente non è corretto fare un confronto dei contagi tra le regioni. Il tasso di letalità apparente che esprime il rapporto tra i deceduti per Covid-19 e il numero di positivi rilevati dipende in larga parte dalle politiche di test delle singole regioni. Come si può notare da questo grafico di Fonte Ispi, che esamina il rapporto tra test effettuati e letalità apparente, si vede che ad esempio il Veneto, con le sue politiche di test diffuso, presenta una letalità più bassa della Lombardia che invece fa meno tamponi e quindi troverà soprattutto persone gravi e più probabili al decesso. Esaminiamo anche delle affermazioni che si devono prendere con le pinze. Quando si parla di rallentamento dei nuovi casi positivi rilevati, bisogna chiedersi perché. Ci sono due spiegazioni alternative. O effettivamente la crescita dei casi sta rallentando, oppure il sistema di tracciamento dei positivi sta diventando sempre più incapace a trovare le persone infette. Questo perché? Perché i contagi che avvengono ad esempio sui mezzi di trasporto pubblici, nelle strade affollate, nelle palestre, nei bar, nei supermercati, nei ristoranti, nei negozi, non sono identificabili, perché se una persona che ha frequentato uno o più ambienti di questo tipo risulta positiva al coronavirus, è impossibile rintracciare quelli con cui è stato in contatto. Al contrario, nelle scuole, nelle famiglie, negli ospedali, nei luoghi di lavoro, i contagi possono essere ricostruiti e quindi individuati. Questo grafico, riferito alla Germania, mette in evidenza che durante tutta la prima ondata, di gran lunga la maggior parte dei casi, ben il 73%, evidenziati dalle barre rosse, non erano tracciabili. I contatti familiari, lavorativi e ospedalieri, identificati dalle barre color blu, verde e giallo, vengono subito dopo e assumono un peso decisamente minore. Praticamente invisibili i casi tracciati nei bar, hotel e ristoranti. Infatti, quando viene scoperto un nuovo positivo, i conviventi vengono tutti sottoposti a test di agnostico. Invece, un individuo che venga contagiato da un estraneo sull'autobus o al bar, non ha la minima possibilità di individuare il contatto che l'ha contagiato e andrà inevitabilmente a ingrossare le fila dei casi non tracciabili. Con questo grafico capiamo che la mancanza di metodi effettivi di tracciamento in situazioni come la movida, le spiagge o il trasporto pubblico potrebbe portarci erroneamente a sottovalutarne la pericolosità. Cosa possiamo dire in conclusione? Che la diffusione di dati corretti e completi garantisce democrazia e convivenza pacifica in una società. La disponibilità e il libero accesso ai dati migliorano sempre la trasparenza e l'efficacia delle politiche pubbliche. Nel corso della pandemia di Covid-19, in cui decisioni errate possono costare molte vite, oltre che chiaramente causare danni economici ingenti, è ancora più urgente basare le scelte politiche sulla raccolta e l'analisi dei dati. Quindi affinché la statistica e i suoi strumenti possono rivelarsi utili ed essere impiegati in modo proficuo, è bene imparare sempre a dare ai numeri una seconda occhiata. Vi ringrazio.